Il sindaco Emiliano non ha perso tempo a tracciare un bilancio del suo doppio mandato, ripercorrendo le tappe di un cammino che solo nella prima parte, cioè nei primi cinque anni, molti ritengono abbia dato i suoi frutti migliori, ma che nella seconda parte ha lasciato in sospeso problemi rimasti ancora oggi irrisolti. Un percorso, per la verità, disseminato di ostacoli, con una amministrazione di centro-sinistra allargata all'Udc di Filippo Barattolo, che ha perso pian piano mordente e motivazioni, caratterizzata da una eccessiva frammentazione politica e che più volte ha dovuto ricorrere all'arte del rinvio per tirare a campare, trascinandosi dietro alle polemiche delle opposizioni. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. Il sindaco Emiliano, tra i principali obiettivi raggiunti, annoverà Bari tra le città più solide in termini di bilancio e con la tassazione più bassa. Cita il più alto numero di cantieri esistenti e tutto il lavoro svolto sul fronte del welfare, delle opere pubbliche e della spesa sociale. Un consuntivo, insomma, che ha dovuto fare i conti con una delle più gravi crisi economiche del dopoguerra e che pone i primi cittadini nella impossibilità di intervenire direttamente su crisi aziendali, vertenze di lavoro e sulla disoccupazione. Emiliano, che oggi guarda con interesse al dopo Vendola, lancia le primarie per Bari sul suo successore. Per la verità il nome di De Caro, assessore parlamentare barese, è quello forse più preferito dal sindaco di Bari. Ma lo stesso Emiliano ha compreso che a partire da settembre dovrà sfoderare le sue capacità di mediazione per mettere d'accordo tutte le forze politiche per una candidatura condivisa. Tutte le persone per bene partecipino alle primarie mostrando le proprie storie, ha precisato in una intervista. La data giusta a Bari per le primarie è i primi di gennaio, ma Emiliano vuole capire quali forze politiche parteciperanno. L'Udc a settembre dovrà far sapere se sta con il centro-sinistra oppure no.